Nei giorni compresi tra il 4 ed il 6 giugno, una delegazione di ufficiali del corpo, composta dal comandante della scuola di polizia economico-finanziaria, generale Francesco Mattana, dal comandante della sezione corsi, generale Gianluca de Benedictis, unitamente a otto ufficiali frequentatori del 51esimo corso superiore, ha effettuato una missione di studio presso il comando provinciale di Reggio Calabria. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria è un corso biennale frequentato da un ristretto numero di ufficiali superiori scelti attraverso un selettivo concorso per titoli ed esami. Il corso risponde all'esigenza di preparare altissime professionalità in tutti i settori dell'attività istituzionale e rappresenta il percorso formativo della Guardia di Finanza in virtù delle discipline trattate, della struttura didattica, della qualità dei docenti e del livello professionale e culturale degli ufficiali frequentatori. La delegazione accolta dal comandante regionale Calabria, generale Gianluigi D'Alfonso, e dal comandante provinciale, generale Maurizio Cintura, ha visitato la sede del comando provinciale e degli altri reparti dipendenti, dove sono state illustrate le peculiarità del tessuto socio-economico, la presenza dei reparti del corpo nella provincia ed i principali risultati operativi conseguiti. La vista è proseguita presso il gruppo di Gioia Tauro, dove c'è stata la possibilità di approfondire l'attività svolta dal corpo in materia di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti. Gli ufficiali hanno, altresì, effettuato una navigazione a bordo delle unità navali della sezione operativa navale di Reggio Calabria. La missione di studio si è infine conclusa con l'incontro con il prefetto di Reggio Calabria, sua eccellenza dottoressa Clara Vaccaro, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, dottor Gerardo Dominiani ed il procuratore aggiunto della Repubblica presso la DDA, dottor Giuseppe Lombardo.